Stiamo scrivendo i pensierini su Pingu, di questo libro che ti piace tanto. E' molto. E' molto. Abbiamo scritto con questo programma che ha la sintesi vocale e che legge quello che scriviamo, tutti questi pensierini. Adesso scriviamo e si sentirà. Allora, Pingu, prova a leggere là in alto. Pingu va a Pingu in i pesci del mare e poi si, poi li stende al sole. Pingu va dalla mamma a prendere la giatta. Sua sorella parla a Pingu, la sorella di Pingu vuole i pesci e i due Pingu vivono la giatta. Adesso cosa fanno? Vanno a casa dalla mamma. Giusto? Sì. Allora, I. I. Bisogna dire chi sono. I, Pingu. Cominciamo con I. Cancella. No, tutto. Allora dovremmo riscrivere. Bevono. No. Spazio. Bevono. La. Il mio. La. Spazio. Bevono la. Aranciata dobbiamo scrivere. La. Spazio. La. 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 Basta. Aranciata. Aranciata. Un. Ah, Ra. Schiaccia invio che è completa la parola. Aranciata. Bene. Punto a capo. Punto a capo. Tutto. Che hai fatto? Ah, niente, hai toccato il menù. ecco che parte di nuovo allora abbiamo l'aranciata a capo i pingu i pingu i pingu è sbagliato perché ci va la n n vanno vanno v v a vanno duenne spazio vanno a casa torna indietro a a s s si a a sentiamo cosa dice a cassa è sbagliato ci sono due s troppi s cancella la parola rifalla a cassa no cancela no cancela invio cancela cancela si ancora 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 cancela ancora cancela ancora eh ma vedi che è scritto A casa tutto attaccato Pingu dai vanno V A N N O spazio A spazio R ma è lo stesso casa cancella A casa spazio A casa dalla mamma ti piace questa cosa? sì mamma M A M M A mamma allora questa storia è la storia di che a te piace? tanto ecco vanno a casa dalla mamma gira la pagina dai gira la pagina e vediamo cosa fanno vanno a casa dalla mamma a fare che cosa? e qui davanti e vanno a 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 vanno a casa a lavare il sederino il sederino allora dai scriviamo vanno a casa dalla mamma a capo mamma vanno a lavare vanno a ce ne sono troppe N torna indietro n vanno vanno ce ne manca una di N dai metti una N in più vanno a lavare vanno un'altra N o una N o vanno a lavare 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 sei sicuro? no lavare torna indietro cancella 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 ancora basta a spazio l a v a r e spazio lavare vai avanti te il il sederino sederino s d r il sedere punto sedere il sedere del a ha scritto da devi mettere la e de e della della so o r e l l a l l l a fine fine bene ciao emma devo andare di là che mi aspetta brian ciao aspetta aspetta ho lo aspetta Grazie a tutti.